ciao a tutti dal mio viaggio a torino ed eccoci qua che ci stiamo facendo una bella passeggiata all'interno del parco di praticamente che affaccia su corso duca degli abruzzi vediamo un po come è fatto adesso vediamo un po giro la telecamera vediamo un po come è fatto sto parco come vedete lì giù c'è il politecnico lì di fronte praticamente qui vedete altre giostre e adesso andiamo avanti guardate ci tenevo tantissimo far vedere questo parco perché veramente bello poi sbuccherò da questa parte qua farò poi un altro giro perché questa è la parte che vi volevo far vedere un'altra volta diciamo che sono venuto però praticamente cosa era successo che non avevo troppo tempo in realtà è la stessa cosa anche oggi ma in realtà cosa mentre ero da questa parte insomma dovevo approfittare per farvi vedere questo parco perché mi piace e ritengo che sia valido proprio da farvi vedere purtroppo il video non potrà essere lungo per mancanza di tempo però almeno ve lo potete vedere ed è così c'è questa è una cosa veramente da tanto tempo che volevo farvelo vedere guardate che casa che bella con i lampioni così con le palline eccola qua perché c'è questa statua vedete tutto con i fiori certo serve un po da curare un po di più c'è scritto alfante d'italia eccolo qua facciamo un attimo il giro giro tondo e poi vediamo un po eccolo qua sto facendo il giro tondo per farlo vedere dall'altra parte vedete tutti laggiù ci sono i bambini che giocano come vedete il nostro simbolo di Terino mentre ci faccio anche una bella fotografia e poi metterlo nella pagina come diciamo pezzo singolo ed eccoci qua io adesso farò un altro video separato in cui andrò appunto per quella strada vedete guardate che è anche qua che casa praticamente andrò laggiù in fondo proprio per farvi vedere diciamo l'altro lato che non avevo fatto vedere l'altra volta però adesso lo faccio diciamo in un altro video a parte vedete Grazie a tutti